In questa lezione impareremo come si procede alla ricerca di una soluzione particolare dell'equazione completa Ly uguale a f, quando la forzante f non rientra nei casi semplici, cioè funzioni esponenziali, polinomiali o trigonometriche. Osserviamo, prima di tutto, che un caso ancora trattabile è quello delle forzanti esponenziali trigonometriche. Un altro caso relativamente semplice si ha quando il termine noto è somma di due forzanti semplici. In questo caso, infatti, è sufficiente sfruttare la linearità e cercare separatamente una soluzione particolare y1 dell'equazione Ly uguale a f1 e una soluzione particolare y2 dell'equazione Ly uguale a f2. A questo punto, il principio di sovrapposizione, che caratterizza le equazioni differenziali lineari, assicura che y1 più y2 è una soluzione particolare dell'equazione Ly uguale a f1 più f2. Come comportarsi quando il termine noto è ancora più generale e non può essere scritto come somma di termini trattabili col principio di somiglianza. Possiamo ricorrere a una tecnica generale chiamata tradizionalmente metodo di variazione delle costanti. L'idea di base è questa. Consideriamo due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione omogenea, diciamo y1, y2. Sappiamo allora che tutte le funzioni di questo tipo, con c1 e c2 costanti reali, sono ancora soluzioni dell'equazione omogenea. A questo punto si cerca una soluzione particolare dell'equazione completa Ly uguale a f, facendo variare le costanti c1 e c2, ovvero si cercano due funzioni c1 e c2 in modo che questa funzione sia soluzione dell'equazione Ly uguale a f. Vediamo un esempio. Consideriamo questa equazione differenziale. Notiamo che f non è definita su tutto r, ma solo su intervalli che non contengono i punti t uguale kπ, con k intero. Scegliamo uno di questi intervalli, per esempio i uguale 0π, come intervallo di validità dell'equazione differenziale. Come primo passo, cerchiamo le soluzioni dell'equazione omogenea associata. L'equazione caratteristica è λ² più 1 uguale a 0, che ha le due radici complesse coniugate più o meno i. Dunque, l'equazione ha le due soluzioni linearmente indipendenti, cos e sen . A questo punto il metodo di variazione delle costanti prescrive di cercare due funzioni c1 e c2, tali che la funzione yπ , definita in questo modo, sia una soluzione particolare dell'equazione completa. Dobbiamo, quindi, calcolare le derivate prima e seconda di yp. Questa è la derivata prima di yp. Ora dovremmo calcolare la derivata seconda, che porterebbe a calcoli complicati. D'altro canto, alla fine del calcolo, imponendo che l'equazione differenziale sia un'identità, noi otterremo una sola equazione nelle due funzioni incognite c1 e c2. Abbiamo a disposizione una seconda condizione che possiamo imporre su queste funzioni. Per semplificare il calcolo successivo imponiamo allora che questa quantità sia nulla. Se questa equazione è soddisfatta, la derivata prima di yp assume un'espressione più semplice, e la derivata seconda di yp, quindi, è questa. Sostituendo, si trova questa equazione. I termini con c1 e c2 si cancellano e rimangono solo i termini con le derivate c'1, c'2. Il fatto che i termini in c1 di t e c2 di t si cancellino, in realtà, non è un caso, ma dipende proprio dal fatto che le funzioni seno di t e coseno di t risolvono l'equazione omogenea. In altre parole, questa cancellazione è una circostanza che si verifica sempre, non solo, in questo esempio. Imponendo adesso che valga questa identità, si trova la seconda condizione su c1 e c2 che stiamo cercando. In totale abbiamo trovato due condizioni che portano al sistema lineare nelle incognite c'1 di t e c2 di t. Il determinante della matrice dei coefficienti è sen quadro di t più cos quadro di t, ed è quindi diverso da 0 valendo semplicemente 1. Possiamo adesso risolvere il sistema e scegliamo di farlo con il metodo di Cramer, ottenendo queste soluzioni soluzioni per c'1 e c'2. Come ultimo passo dobbiamo integrare le funzioni trovate per identificare c1 di t e c2 di t. In questo caso è semplice. Quindi possiamo concludere che meno t coseno di t più log sen t per sen t è una soluzione dell'equazione differenziale non omogenea. Il metodo di variazione delle costanti è un metodo generale che può essere usato in presenza di qualunque tipo di forzante per determinare una soluzione particolare. In tutti i casi, infatti, il metodo permette di determinare esplicitamente le funzioni c'1 di t e c'2 di t, e quindi di ricondurre il problema al calcolo di integrali. Ripercorrendo i calcoli fatti nell'esempio utilizzando una generica equazione differenziale non omogenea a coefficienti costanti, dette y1 e y2, due soluzioni indipendenti dell'omogenea, si trova facilmente che le due equazioni che determinano c'1 e c'2 si scrivono in generale in questa forma. Consideriamo il determinante w di t di questo sistema lineare. Le funzioni y1 e y2 variano a seconda che il discriminante del polinomio caratteristico sia positivo, negativo o nullo. Sono però, in ogni caso, funzioni note esplicitamente e, in ciascuno dei tre casi possibili, calcolando il determinante w di t, possiamo verificare che è una funzione sempre diversa da zero. Pertanto, anche nel caso generale, possiamo risolvere il sistema con il metodo di Kramer, ottenendo le soluzioni per c'1 di t e c'2 di t. Il metodo ci fornisce dunque sempre c'1 e c'2 sotto forma, come si dice, di quadrature, cioè rimangono da calcolare solo le primitive di due funzioni note. A questo punto, se si è in grado di determinare le primitive c1 di t e c2 di t, si arriva ad una scrittura esplicita anche della soluzione finale, come nel nostro esempio. Se le primitive non sono calcolabili elementarmente, la soluzione particolare dell'equazione differenziale sarà comunque espressa da questa formula integrale. Questa formula è utilizzabile, ad esempio, per calcolare numericamente la soluzione in modo approssimato. Osserviamo inoltre che le funzioni y1 di t e y2 di t si comportano come costanti rispetto all'integrazione sulla variabile s e possono quindi essere portate sotto segno di integrale. Di conseguenza, la formula si può riscrivere in questo modo. La cosa interessante di questa formula è che la funzione g di t e ed s, detta funzione di Green, si scrive esplicitamente una volta noti i coefficienti costanti a, b e c dell'equazione omogenea e quindi note le funzioni y1 e y2. In particolare, g non dipende dalla forzante f. Perciò la formula yp di t uguale integrale da t0 a t di g di t s f di s in ds è una formula di rappresentazione integrale della soluzione. Si può vedere come una sorta di macchina che all'ingresso f associa l'uscita yp e che si riesce anche a scrivere esplicitamente pur di saper calcolare l'integrale. Segnaliamo, a questo proposito, che esista anche un altro metodo per cercare le soluzioni di un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti e forzante di forma qualsiasi. Si tratta del metodo della trasformata di Laplace, strumento molto efficace, abitualmente oggetto di corsi più avanzati.